Da oggi aumentano i comuni abruzzesi in zona rossa. Le restrizioni questa volta riguardano tre comuni costieri della provincia di Teramo, Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi. Lo ha stabilito l'ordinanza numero 12 firmata dal presidente della regione Marco Marsilio. I tre comuni erano già entrati a far parte tra quelli sorvegliati speciali, come disposto dall'ordinanza di sabato. Una decisione scaturita a seguito della relazione dell'Asri di Teramo, che è evidenziato nelle tre località, oltre a una significativa percentuale di casi accertati sulla popolazione residente, anche la presenza di diversi casi di variante inglese, che unita alla naturale prossimità dei predetti comuni con l'area metropolitana di Pescara, hanno portato ad ulteriori restrizioni. Un provvedimento che naturalmente non va interpretato come qualcosa di punitivo, ma va interpretato come qualcosa di preventivo. L'ordinanza è chiara nel dire che la vicinanza di queste località alla costa pescarese, altamente interessata dalla variante inglese, ha costretto a prendere questo provvedimento. Quindi i contagi del resto sul Roseto sono sostanzialmente fermi a 190, dati dell'altro ieri della Asla, oggi avrò un aggiornamento. Quindi non è che ci siano eccessivi contagi, ma è che c'è la necessità di prevenire una variante estremamente infettiva. Misure che per la zona rossa diventeranno ancora più restrittive a partire da sabato 6 aprile, con le entrate in vigore del nuovo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio Draghi. Ieri sera abbiamo fatto un vertice con il collega di Pineto e di Silvi, abbiamo esaminato tutte le normative in essere e abbiamo dovuto concludere che l'asilo nido e le scuole dell'infanzia resteranno aperte oggi e domani, come ancora i bar e i parrucchieri saranno aperti oggi e domani, mentre da sabato si dovrà intendere con le entrate in vigore del decreto Draghi che tutto è stato chiuso, bar, parrucchieri, scuole dell'infanzia, ecc.